Ciao ragazze come state? Il video di oggi è un video un po' così, quelli che io chiamo chiacchierecci praticamente, scusate i capelli ma c'ho una coda e sono tutti un po'... devo sistemarli un attimo c'è stato un pochino di vento, i miei capelli hanno una... prendono una forma poco consonale fanno un po' così, sono un po' falsi come me quindi video chiacchiereccio perché ho trattato diverse tipologie di argomenti ho trattato gli argomenti relativi al discorso del corpo, del viso, della pelle, della cura, di quelle che sono le nostre problematiche che abbiamo tutti perché tutti invecchiamo, tutti abbiamo il passaggio del tempo che avanza, tutti siamo soggette alla forza di gravità che ci fa scendere, tutti abbiamo un po' di cellulite, poi magari c'è chi non ce l'ha perfetta però poi se è perfetta si deve comunque mantenere perfetta perché tutto può sempre cambiare in evoluzione, la pelle non è più con i passaggi andando avanti degli anni elastica come prima quindi bisogna fare qualcosa per mantenere l'elasticità, insomma i problemi estetici ce l'hanno credetemi anche le modelle, le modelle elettrici, le donne più belle al mondo, quelle che nascono, che hanno la fortuna di nascere bellissime però non preoccupatevi che si devono dare da fare per mantenere la propria bellezza e chi non è nata con una forma perfetta, chi non ha diciamo il famoso 90 60 90 quello che è, insomma il fisico perfettissimo può comunque essere bella perché io vedo tantissimo, guardo in giro, guardo gli uomini, mi piacciono gli uomini però se mi butto l'occhio anche sulla donna quando vedo delle donne in giro dico magari c'è quella molto prosperosa con i fianchi un po' larghi che è buona detto proprio non è brutta per niente, anche se non è 60 90 60 ma è buona da far paura c'è quella magra 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 snella alta stile modella che ha uno charme fantastico c'è quella con la forma perfetta clessidra con il 90 60 90 che wow c'è quella un po' pienotta che magari ha un po' il cosciotto un po' pienotto quindi ha qualche difettuccio lì ma porca miseria grazie a quei chili che ha c'ha un seno che fa paura e che non c'è nessuno che non riesce a guardare perché è bellissimo, c'è quella invece appunto che essendo molto 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 snella ha un sederotto che canta perché non ha un filo di... cioè ci sono la bellezza, il viso, c'è quella con gli occhi azzuri, quella con gli occhi neri io gli occhi ce li oscuri, mi piacciono gli occhi chiari ma io ce li oscuri vabbè pazienza però magari ha un taglio particolare, non sia un taglio particolare con un trucco particolare tenendo idratata la pelle, fantastico magari hanno una delle labbra meravigliose magari una persona invece si trucca anche poco, non lo so, comunque cura molto l'aspetto della pelle e è solo a vederlo, vedi una pelle così luminosa che diventa subito... diventi bella perché il bello non è legato a un solo particolare, cioè non è che sono belle solo quelle che hanno le labbra così, gli occhi così, i sederi così, no! Ok, la bellezza è qualcosa di oggettivo, quando vedi qualcosa di bello, qualcuno di bello dici ammazza che roba, no? Ce lo dici? Non so a romana ma mi viene da dire così però tante volte vi sarà capitato, ci sono persone che si incontrano, no? Si vedono per strada, si incontrano nel lavoro, quello che volete, si incontrano appunto, magari hanno dei piccoli difetti come li abbiamo tutti, tutti, tutti e che il segreto è focalizzare l'attenzione dove non c'è il difetto, non nasconderlo ma esaltare quel punto del nostro corpo viso dove invece non c'è il difetto e siamo meravigliosi, tutti ce l'abbiamo, no? Il punto dove siamo meravigliosi, il nostro punto di forza, però, dicevo, tante volte si incontrano persone che non sono particolarmente perfette di forma, di caratteristiche, non sono Pamela Anderson o Johnny Depp, che a me vabbè fa impazzire, che ne so, comunque anche loro hanno i loro difetti, eh? Troviamogli, però anche loro sicuramente li avranno. Persone non perfette, dal punto di vista estetico, ma che hanno quel qualcosa che le ciaperesti lì, ti mettono sangue, proprio che è ancora più bello del guardo un bel, ah che bello, che bel quadro, stupendo, che bella persona, perfetta, però magari a livello di sensazione è bellissimo, è da vedere, ma non ti dà molto. Ci sono persone meno belle, che hanno quel qualcosa che io, ripeto, ti mettono sangue. Dici, mamma mia questa, proprio questo. La bellezza, l'essere, avere la personalità, avere quel quid in più, quel qualcosa che hai tu, che un'altra persona non ha, quell'altra persona ne avrà un altro di quid, che intriga, che prende, che ti dà personalità e che ti rende bello o bella. Non è tutto legato a una misura, a un determinato peso, a una determinata altezza, a un determinato colore di capelli, di occhi, ma no, assolutamente. Noi prendiamoci cura di noi stessi, della nostra pelle, della nostra salute, del nostro corpo. Divertiamoci anche, l'ho sempre detto, che è la salute, tutto ci mancherebbe altro, lo sapete poi sulla salute, ne ho passate veramente, quindi. Quindi una dieta, dieta, un'educazione nutrizionale giusta, appropriata al nostro modo di essere, che non è uguale per tutti. Un po' di attività fisica che fa bene, aiuta la cura della nostra pelle. Ragazzi, poi divertitevi anche, fatevi anche le serate che dovete divertirvi a 20, 30, 40, 50, 60, 70 anni, chi se ne frega, passatevi le serate, divertitevi, fate qualcosa che non avete mai fatto, fate qualcosa che vi piace fare, che continuate a fare, chi se ne frega, vi piace, vi criticano, sapete cosa dovete dire? Ma va, ecco, non ce lo mandate, ce la mandate, ce li mandate, fate quello che vi fa stare bene. Se, io dico sempre, rispetto per gli altri, non bisogna mai fare del male a nessuno e mancare di rispetto a nessuno. Poi, oh signore, sbagliare umano, umano mest, non è una cosa, però, cattivega volontaria a fare del male a qualcuno, no, le persone vanno rispettate, punto. Se non si fa del male a nessuno e non si fa del male a noi stessi, possiamo divertirci come diavolo vogliamo, volendoci comunque bene. Noi, io prima voglio, in primis voglio bene a Daniela, poi posso voler bene alle persone che amo, non a tutte, solo quelle che amo, che mi amano, però in primis voglio bene a Daniela. Questo per dire che si cura tantissimo, in primis la salute, in secondo la salute, in terzo la salute, in quarto la salute, in quinto la salute, e andiamo avanti così per dieci, la salute. Poi, anche l'estetica, e chi se ne frega se ci danno delle, mamma comunque sei molto attenta all'aspetto esteriore, e perché? A me piace piacermi e a me piace anche magari poter piacere. Cos'è un reato, si viene arrestati per questo, è una cosa, è un, come dico, un tabù, non bisogna, ma chi se ne frega, invece a tutti piace comunque essere piacevoli, penso che piaccia a tutti, e se qualcuno non piace essere piacevole, vabbè, è il suo modo di pensare, non lo critico assolutamente, ma non è in accordo con il mio. Quindi, prendersi cura di se stessi, in ogni caso, io la trovo una cosa utile, a noi, ok? Bella, ci fa stare meglio, ci dà sicurezza, e poi di chi dobbiamo prendersi cura? Ok, uno dice un figlio, ci mancherebbe altro, io non ho figli, mariti, cognati, madre, perché ne so io, tutto quello che volete, ma se non ci prendiamo cura di noi, chi è che ci può amare più di quanto ci possiamo amare noi stessi? Chi può conoscere le nostre esigenze, i nostri gusti, le nostre aspettative più di noi stessi? Nessuno. Noi siamo le persone che possono veramente rendere felici noi stessi, io mi conosco, quindi posso fare quello che so che può rendere felice Daniela, lo posso spiegare a qualcun altro, e magari quel qualcun altro che mi vuole bene può aiutarmi, può, se mi ama, cercare di rendermi felice come io cerco di rendere felice la persona che amo, ma in primis sono io che mi conosco più di chiunque altro al mondo, delle volte magari posso anche stupirmi di certe mie reazioni, certe mie... sì perché comunque c'è anche questo aspetto, non ci si conosce mai fino in fondo e siamo sempre in evoluzione, quindi oggi siamo quello che siamo oggi, ma ieri eravamo diversi, domani saremo ancora diversi, fortunatamente nel bene e nel male, chi se ne frega, mutare, cambiare, fa bene all'animo, perché è come morire e rincominciare a vivere, morire e rincominciare a vivere, invece di stare piatti, piatti, per tutti cambiamo, fa parte della vita, le esperienze ci cambiano noi, ogni mattina siamo diversi dal giorno prima, di testa, abbiamo tutto il diritto di cambiare idea 20.000 volte sulle cose e non rompeteci le scatole se siamo così. Punto. La vita è la nostra. Ripeto, l'importante è rispettare le persone, se si rispettano gli altri. Questa è la mia cura di bellezza fondamentale, il volermi bene. Volevo semplicemente fare questa chiacchierata con voi, ringraziare ancora una volta chi mi segue, spero che questo canale prenda un pochino più il volo perché vedo che si è assestato, probabilmente ci sono tante cose che sbaglio, magari come parlo, come mi pongo, ditemi, ripeto, dico sempre, se avete voglia, se vi va di perdere due minuti del vostro tempo prezioso, il tempo è prezioso, è la cosa più importante che abbiamo, magari datemi qualche critica, qualche consiglio, ma criticatemi anche, in maniera educata altrimenti vi mando col paese. Io adoro le critiche ma devono essere critiche costruttive, io quando critico, cerco di criticare in maniera costruttiva, però dico criticatemi, ditemi quello che non va bene, ditemi dove sbaglio, ditemi cos'altro volete che tratto, ditemi o datemi consigli, perché sicuramente c'è qualcosa che magari, sicuramente, perché non sono nata per, non sono una VIP e quindi non sono nata per stare davanti bene alle telecamere, no? Si dice così. Quindi sicuramente faccio mille errori, sicuramente non sono la persona più adatta, però mi piace. E chi è che può dirmi, Dani stai facendo bene, Dani qui stai sbagliando, Dani questo sì, questo no, al fine di migliorare quello che per me è una sfida. Quindi se potete aiutarmi in questo, ve lo chiedo. Innanzitutto vi ringrazio perché avete pazienza e state qui con me. E se avete voglia, ve lo chiedo veramente col cuore, col cuore, datemi qualche consiglio, qualche strigliata, qualche critica, qualcosa che possa aiutarmi a migliorare un pochino io nel canale, perché nella mia vita, non preoccupatevi, ci pensa la vita a bastonarmi, a insegnarmi le cose, come a tutti. Dai ragazzi vi auguro una buonissima, bellissima giornata e ci sentiamo, ci vediamo alla prossima. Proponetemi anche magari degli argomenti, anche non di bellezza, se volete che magari parlo di qualcos'altro, se volete che parliamo di qualcosa del sociale, di politica, di vacanze, di lavoro, di aspetti personali dell'animo, del pensiero umano, dell'amicizia, della non-amicizia, delle fregature, delle trotture di palle, scusate si può dire, penso su YouTube. Cioè tutto quello che magari può interessarvi, così, facciamo un rebelot, come dico io, mi piacerebbe. E soprattutto mandatemi dei consigli, o se avete delle curiosità sono qua e mi piacerebbe poter, così, veramente, per far crescere il canale intendo dire anche farlo crescere a livello di argomenti, no? Io ne ho un bel po', ho anche altre tipologie di argomenti legati non all'estetica, ma a un discorso più psicologico, però non so se possono interessare. Quindi vi chiedo un attimino se potete darmi qualche input per vedere se posso provare, no? Se magari posso provare a fare qualcosa in più, che non è detto che piaccia. Un bacio grande, c'è il sole, quindi forza e coraggio ragazzi. Yeah! Chill! Ah, a proposito, so cantare molto bene, lo sapete, e adoro la musica. C'entra niente, con questa cosa non c'entra niente, ma mi andava di dirlo e l'ho detto. Ciao!